Domenica da dimenticare sulle strade e le autostrade dell'Aquilano. In un tragico incidente ha perso la vita un centauro di Chieti Scalo, Fabio De Torre, nei pressi del passo delle Capannelle, lungo la statale 80 che collega Terramo all'Aquila. L'incidente, nel quale è rimasto coinvolto un altro motociclista, è avvenuto nel tratto tra Arischi e Campotosto, in provincia dell'Aquila. In base ad una prima ricostruzione, il primo motociclista, De Torre, si è schiantato contro un muretto all'altezza della lapide di un ragazzo morto proprio in quel punto nell'agosto 2009. Il motociclista è caduto a terra e il secondo centauro lo ha colpito scontrandosi poi con il fuoristrada che viaggiava dalla corsia opposta. De Torre, dopo il violento scontro, si è alzato e si è tolto da solo il casco ed è finito subito in coma. Intubato e portato insieme al secondo motociclista, all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, a bordo dell'Ale Ambulanza, è morto poco dopo. Il secondo centauro è ricoverato con numerose fratture ed è in gravi condizioni. Il leso, il conducente del fuoristrada. Non coinvolto nel drammatico incidente, un terzo motociclista. Nella serata, momenti di paura sul tratto dell'A24 dentro il traforo del Gran Sasso, in direzione l'Aquila. Una Peugeot 205 rossa, con quattro persone a bordo, padre, madre e due ragazzi, ha infatti preso improvvisamente fuoco all'altezza dell'ingresso dei laboratori di fisica nucleare. I passeggeri non hanno riportato ferite o ustioni. Sono riusciti infatti ad accostare l'autovettura ed uscire dall'abitacolo, non appena è cominciato ad uscire il fumo dal motore, per poi andare completamente a fuoco. I quattro si sono riparati dentro un'altra auto che si è fermata a prestare soccorso. Una lunghissima fila, lunga oltre 10 chilometri, si è creata all'imbocco della galleria e il tratto autostradale tra San Gabriele e Coledara è stato chiuso in entrata dalla società Strada dei Parchi. L'ingorgo sull'autostrada, solo a partire dalle 21, ha cominciato a defluire. È un quadro desolante quello descritto dal Servizio Elaborazione Dati del Comune dell'Aquila che ha effettuato una ricognizione delle informazioni contenute nella Banca Dati per l'Emergenza in merito alle situazioni dei nuclei familiari su contributo di autonoma sistemazione e contratti degli alloggi del progetto case. Sarebbero stati versati milioni di euro di cassa, contributo di autonoma sistemazione, a cittadini che non avrebbero avuto dovuto percepirlo e ci sarebbero contratti di assegnazione degli alloggi del progetto case intestati a persone decedute. Stando al report stirato dal SED, sarebbero oltre 3.000 le famiglie aquilane che hanno continuato a percepire il contributo di autonoma sistemazione anche quando non ne avevano più diritto. L'ammontare del denaro finito indebitamente nelle tasche di questi nuclei ammonta a circa 4,4 milioni di euro. I dati sono aggiornati al 31 maggio 2016. Il Comune è riuscito a recuperarne più o meno la metà dopo aver inviato oltre 1.500 lettere di richiesta di restituzione delle somme. Nel corso della sua ricognizione il SED ha constatato come, nella maggior parte dei casi, siano state proprio le famiglie a non comunicare tempestivamente al Comune, così come prevedeva la legge, l'avvenuta perdita dei requisiti e che solo grazie agli accertamenti compiuti dagli uffici comunali si siano potuti scoprire i casi di casse illegittimo. Come a dire, insomma, che se non fosse stato per le verifiche fatte dall'amministrazione, i furbi avrebbero continuato a fare i furbi. Per questo, il Comune non si è accontentato di iniziare le operazioni di recupero delle somme intascate in modo regolare, ma ha inviato i risultati del report alla Guardia di Finanza. Il dossier del SED ha scoperchiato diverse zone d'ombra anche nei contratti di assegnazione di alloggi del progetto case. Dalla verifica, infatti, è emerso che 83 contratti erano intestati a persone defunte. Riguardo ad altre 176 posizioni, sarebbero stati riscontrati degli errori nell'intestazione dei contratti e nell'imputazione degli effettivi periodi di occupazione degli alloggi. Per tutti i casi rilevati, si tratta di 523 posizioni, si è provveduto a verificare sulla documentazione cartacea le effettive dati di decorrenza e rescissione dei contratti anche in caso di cambi di alloggio, contantando gli assegnatari nei casi di dubbi e imputazione. E' tornata rossa fiammante l'antica trebbia sul piazzale di Colle San Vito per la decima festa della trebbiatura. Con il pienone nelle tre giornate, la manifestazione conferma il suo ruolo di scrigno che conserva e tramanda la tradizione contadina legata alle mezzi. Davanti a tanti bambini incantati e a grandi, spesso nostalgici, i covoni sono arrivati a dorso di mulo e poi disposti nell'area della trita. I magnifici destrieri, allevati nel maneggio di San Vito, hanno corso sulle spighe per prepararle alla trebbia. E poi è partita la macchina delle meraviglie a separare i preziosi grani dalla paglia. Una festa tra le vie del borgo di suoni, colori e antichi mestieri e tanto cibo della tradizione tra i profumati olaci, l'immancabile pecora alla cottora e le dolci ciambelle. Tutto realizzato grazie alla forza e alla passione instancabile dei volontari dell'Associazione Colle San Vito. Grazie a tutti.